forte più forte la grassa bravo anche il ginocchio bravo sta bene bravo bravo dai bravo bravissima più forte quanto manca? a do a quando stanno? a due per più a zero dai si è partito combattiamo combattiamo spingetti tira bravi via bravo eeeh eeeh così così vi voglio tira tu bravo bravo bravissimi più precisi vai tira ripieni bravo via alla corazza alla corazza precisi bravo colpisci colpisci blu blu ha messo i punti forte 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 spingi e tira più forte ah sorelle col piede non la tiglia 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 come va il cuore? batte? e si vediamo sono aria vieni bravo bravissimo fuori ha eh non mangate dai bella Mario ha ha come va dentro and pleasing bravo, girate, bravo, hai visto Soraya, brava, dai che sei contissima, brava, non andai indietro, para, para sulla corazza, metti le mani alla corazza così, vedi? oh, così, ecco, via, più fuori, abbiamo fatto tre minuti e abbiamo fermato, dai, bravo, gira Samuel, oh, bravissima, non riuscire, bravissima, fai un applauso a C2,